Sono mamma di una ragazza di terza media e siamo in piazza con i nostri figli e con le nostre figlie per forse stare contro la decisione del Presidente Cirio di riaprire tutto tranne la scuola per le seconde e le terze medie. Questa situazione sta facendo dei danni che saranno con noi molto lungo e li stiamo assolutamente sottostimando. Tenere le classi della scuola media in didattica a distanza significa aumentare le disuguaglianze di apprendimento, di sviluppo, di socializzazione, di opportunità per ragazzi e ragazze in un'età critica. Non è giustificato a nostro avviso dalla situazione cosa c'è di diverso in Piemonte e dalle altre regioni. Non si capisce. Abbiamo oltretutto anche il timore che se adesso si dà questa situazione e tutto il resto apre questo comprometta anche la riapertura delle scuole a gennaio. Tutte le scuole medie sono scuole di prossimità. Gli alunni quindi non prendono mezzi pubblici. In realtà nelle scuole c'è abbastanza controllo. Quindi questa decisione di chiudere le scuole sembra ancora più inspiegabile? Assolutamente sì. Mi sembra che da un lato si sottovalutino i danni del tenere i ragazzi a casa e dall'altro si sopravvalutino i rischi di avere delle infezioni, dei contagi nell'ambito scolastico. Anche su questo una delle richieste che facciamo al Presidente Cirio, alla Regione Piemonte è di chiarire su quali basi questa decisione è stata presa. Perché così le scuole medie sono principalmente scuole di prossimità. I danni e i problemi sono ovviamente uguali anche per i ragazzi delle superiori, ma è vero che i ragazzi delle superiori prendono i mezzi pubblici. Nel caso delle scuole medie questa è l'eccezione e non la regola. Oltretutto per quello che possiamo osservare le scuole sono molto controllate, le regole dentro la scuola si rispettano e i ragazzi e le ragazze le hanno apprese e le rispettano, più degli adulti, più che in tutti gli ambiti extrascolastici.